Pillole di Non Solo Suoni Neck, alla nagrafe Filippo Neviani, è tra i protagonisti dell'ultimo festival di San Remo, dove è arrivato secondo con il brano Fatti Avanti e Amore, ma la sua carriera inizia molti anni prima. Nata a Sassuolo, 43 anni fa, si stima abbia venduto qualcosa come oltre 10 milioni di dischi nel mondo, anche grazie al fatto che canta anche in spagnolo. Dopo le prime esperienze in band specializzate, in cover e soprattutto in brani dei polis, Neck diventa solista, partecipando al festival di Castrocaro nel 1991 con Io Ti Vorrei, seguita l'anno dopo dal primo singolo, Amami. È nel 93 che partecipa per la prima volta a San Remo nella categoria Nuove Proposte, con In Te, stesso titolo del secondo album. Nonostante si faccia conoscere e apprezzare ed esca un terzo album, è nel 97 e di nuovo a San Remo che Neck consolida la sua fama, con la canzone Laura non c'è, che resta ancora oggi uno dei suoi brani più apprezzati. Nello stesso anno, ecco anche il Festival Bar e la tournée Lei, gli amici e il tutto. L'anno dopo Neck torna al Festival Bar e in successione escono altri due album in tre anni, Se io non avessi te e La vita è. Dopo un settimo album nel 2002, ecco che nel 2003 arriva la prima raccolta di successi. Nel 2005, anno della partecipazione al Live 8 di Roma, Neck vince anche il Festival Bar con Lascia che io sia, uno dei suoi maggiori successi, insieme a Nella stanza 26 dell'anno dopo, quando tra l'altro partecipa insieme a Ligabue, Samuele Bersani, Giorgia e Max Pezzali al disco Cover per tributo dedicato a Lucio Battisti, Innocenti Evasioni 2006, con il pezzo Sì Viaggiare, completamente riarrangiato. Dopo aver realizzato alcuni brani, diventati colonna sonora del film di Simona Izzo, Tutte le donne della mia vita, nel 2007 si cimenta in un duetto con Craig David in Walking Away. Con l'album Un'altra direzione ottiene invece il disco di Platino con 60.000 copie distribuite. Neck partecipa anche al disco per i Terremotati dell'Aquila e al concerto per quelli dell'Emilia, rispettivamente nel 2009 e nel 2012. Dopo quattro anni di silenzio, nel 2013 esce un nuovo album, che ha il suo nome di battesimo, Filippo Neviani, ed esce anche il singolo di lancio, Congiunzione astrale anticipato via Twitter. Sempre tra le curiosità, invece, c'è il tifo per la squadra di calcio della sua città, il Sassuolo, per la quale Neck scrive l'inno. Neck è anche molto impegnato sul fronte della solidarietà, in particolare per i bambini che soffrono di malattie rare, come dimostrano alcuni brani del nuovo album appena uscito dopo Sanremo.